Benvenuto anche a Massimiliano Fedriga che è il presidente del Friuli Venezia Giulia ed è il presidente dei presidenti di tutte le regioni italiane. Ma volevo coinvolgere nel talk anche Fedriga. Senta, governatore, i giocatori dell'Udinese sono più disciplinati di Ibrahimovic, spero di sì. E però questa storia in qualche modo ci riporta al problema dei ristoratori che insieme con commercianti, partite IVE, vogliono riaprire. C'è una grande spinta da parte di Salvini, per esempio, del segretario della Lega in questo senso. È d'accordo con lui, immagino. Io penso che in questo momento non stiamo affrontando soltanto il tema economico-lavorativo e delle difficoltà che oggettivamente molte categorie stanno vivendo. Io penso che il problema sia da affrontarlo anche in un altro modo. Noi, i cittadini, non vivono più come un anno fa, a marzo dello scorso anno, le misure messe in campo con estremo rigore. Ma dopo un anno di sacrifici, sofferenze, in alcuni casi drammi, c'è molta ritrosia ad affrontare i divieti totali. E il risultato qual è? Il risultato è che lo vediamo quotidianamente, cene nelle abitazioni private, chi va a tagliare i capelli invece con il parrucchiere chiuso nelle abitazioni private, gente che si iscrive a fare sport nelle palestre, iscrivendosi come agonista. Quindi forse non è meglio cercare di trovare delle regole, magari anche rigide, ma per farle rispettare piuttosto che mettere dei divieti che nessuno rispetta. Questo penso che sia anche a tutela della salute. Noi dobbiamo muoverci, mi scuso le rubo ancora 10 secondi, come istituzioni insieme ai cittadini. Se qualcuno in mezzo a una pandemia pensa che qualcuno comanda e qualcun altro esegua, pura che falliremo anche la lotta alla pandemia che dobbiamo fare tutti insieme. Questo è un tema, Federica, sul quale torniamo tra pochissimo. Per subito tornare da Federica, in questi ultimi giorni sentiamo notizie che non ci piacciono su AstraZeneca e ancora su Johnson & Johnson e soprattutto è fortissima la spinta di alcuni governatori, penso a De Luca, ma anche a Zaia, a procurarsi l'idea di procurarsi i vaccini da soli. Non vi sentite in qualche modo garantiti dal governo? No, ma io penso che tutti volrebbero essere garantiti sempre di più per l'approvvigionamento vaccinale. Devo dire che il problema non è semplicemente il numero dei vaccini, ma anche una programmazione dei vaccini che arrivano. Io reputo insopportabile questa classifica di Serie A quotidiana chi vaccina di più un giorno e chi l'altro. Qui siamo in mezzo alla più grande pandemia della storia moderna. Con la più grande campagna vaccinale che sia mai stata o si fanno le cose seriamente, programmandole, facendo un'agenda vaccinale, altrimenti si rischia il caos. Dobbiamo tenere i pidi ben pentati per terra, sapendo le difficoltà che ha anche il governo nazionale e non si possono incolpare ovviamente chi non produce i vaccini, ma le difficoltà che c'ha nel procurare i vaccini perché le aziende non stanno rispettando in alcuni casi le consegne concordate con l'Europa, quindi stanno facendo un lavoro straordinario, devo dire anche il commissario Figliuolo. Però detto questo, dobbiamo tornare a un paese serio e normale dove non si può fare queste rincorse quotidiane perché oggettivamente diventa tutto più complicato e rischiamo di creare sfiducia nei cittadini invece che dargli delle prospettive. Qui vado da Fedriga. Se è vero che il piano pandemico era del 2006 e se è vero che ci sono le responsabilità sulle chiusure di Alzano, allora probabilmente ce ne sono meno nei confronti della regione Lombardia che è stata messa all'indice per settimane, per mesi. No, Fedriga? Sì, guardi, io penso che il trattamento su regione Lombardia sia stato profondamente ingiusto, ma ingiusto perché ricordiamo che è la regione dove è scoppiato per prima la pandemia, che nessuno conosceva e abbiamo visto gli errori che sono stati fatti anche in buona fede dall'Organizzazione Mondiale della Sanità banalmente. Io ricordo con chiarezza quando si prendeva in giro il presidente Fontana perché indossava la mascherina. Io lo ricordo con estrema chiarezza dove è stato attaccato e umiliato pubblicamente e dopo l'OMS diceva non serve la mascherina soltanto per chi è contagiato, chi lo assiste e dopo oggi ci troviamo nel 2021 tutti a portare la mascherina anche fuori. Quindi io penso che in un momento di pandemia degli errori li sfanno sicuramente, siamo in alcuni casi ancora sconosciuto, però bisogna utilizzare quella serietà dei rapporti anche al rispetto di chi sta in prima linea e sta cercando di combattere con le armi che ha questo dramma che sta vivendo la nostra popolazione. Senta Federica, domani avete un nuovo incontro, sottoporrete le vostre idee ancora al governo e quali sono? Guardi, domani mattina verranno il tutto presentate la bozza alla conferenza di linee guida per alcune riaperture, le proporremo al governo ovviamente dopo che la conferenza verrà discusso e deciso tra i diversi presidenti ma stanno e vorrei che fossero nella linea di cui parlavamo prima c'è grande responsabilità ma capire che oggi per combattere la pandemia le persone devono muoversi con le istituzioni e quindi le istituzioni devono essere in sintonia con la gente e per questo dico che forse delle regole serie possono servire di più che dei divieti assoluti che non vengono rispettati. Federica, riuscirete a dar voce a questi imprenditori a queste partite IVA per evitare che ci siano ulteriori momenti di questo genere? Guardi, io credo che non serva a dare voce ma a dare risposte. Penso che la gente semplicemente di farsi portavoce e che qualcuno si faccia portavoce sia stanca bisogna incominciare a dare delle risposte ovviamente gli atti di violenza sono da condannare senza alcuna giustificazione sia ben chiaro però magari tra quelli che invece gli atti di violenza non li facevano ma l'esasperazione le vivono io penso che tutti insieme guardi indipendentemente dal colore politico è l'ultima cosa a cui penso da Presidente della Regione il colore politico però dobbiamo metterci lì cercare di capire dove sono i problemi e dove oggi è possibile dare una risposta sapendo che tutto non si può fare sia ben chiaro grazie a tutti